Quarta corsa all'ippodromo delle Capannelle, premio Dai Pra, un miglio per cavalli di 4 anni, sono in 7 al via con l'1 Ascot Griff, Pietro Paolo Schettino per Gennaro Riccio, il 2 Arro Clemare, Enrico Bellè per Gennaro Casillo, il 3 Amira Jack, Luigi Panico, il 4 Azzurra Mark, Daniele Cuglini, il 5 Abletivo Gaetano Di Nardo per Luca Fier, il 6 Anita Dipa, Dario Battistini ancora per Daniele Cuglini, il 7 Engi Thor. Warner Martellini, ovviamente tutti su di una fila, rinunciano al lancio i cavalli all'esterno, mentre lungo la corda è veloce Ascot Griff che lotta con Amira Jack e con Ablativo, Ablativo però desiste mentre tiene il contatto con i primi Arrof Clemar, la lotta per il comando però è tra Ascot Griff e Amira Jack che ora avrebbe spazio per accodarsi e lo fa puntualmente all'imbocco della prima curva, il lancio va via in 14,2. Ascot Griff, Amira Jack, Arrof Clemar con a largo Engi Thor in risalita, poi Ablativo, Engi Thor che scavalca Arrof Clemar e va a guadagnare la terza posizione. Quinta posizione, quindi ora per Ablativo, a precedere Anita Dipa che lascia in coda Azzurra Mark. Filla indiana molto allungata perché Ascot Griff sta imponendo il ritmo sostenuto 44,3 i primi 600 metri, lo segue da vicino la sola Amira Jack che lascia un paio di lunghezze a Engi Thor, poi Arrof Clemar, Ablativo e gli altri sempre tutti in lunga fila indiana mentre Ascot Griff completa il mezzo miglio iniziale in leggera decelerazione in un minuto e otto decimi. Cerca ora di graduare Ascot Griff che completa il chilometro in 1,16 e mezzo ma sotto l'attacco di Amira Jack sembra fermo e allora Amira Jack passa in scioltezza. Su Ascot Griff che è chiaramente in difficoltà raggiunto e tra poco superato anche da Engi Thor, i 1,2 di Amira Jack sono in 1,31 e 2, Engi Thor ne guadagna la scia, poi Arrof Clemar che costringe in terza ruota a Azzurra Mark dopo l'errore di Ablativo. Amira Jack in vantaggio al paletto dei 200 finali in seguito da Engi Thor, molto molto più indietro Arrof Clemar e Azzurra Mark. Amira Jack in fuga da Engi Thor, poi Arrof Clemar. Amira Jack che incrementa il vantaggio nei confronti di Engi Thor e Arrof Clemar. Nel finale Amira Jack che conclude con largo margine su Engi Thor e Arrof Clemar con Anita Dippa al quarto posto. Vince Amira Jack e Luigi Panico alla guida e al training i colori quelli del signor Vincenzo Esposito. numero 3 al primo posto davanti al 7 di Engi Thor e al 2 di Arrof Clemar. Rivediamo la retta d'arrivo, 2,1 e 7 sul mio cronometro, media di 1,16 e 1, se confermata per Amira Jack e Luigi Panico che vincono largamente davanti a Engi Thor e Arrof Clemar per i numeri 3,7 e 2. Questo è l'arrivo ufficioso della quarta di Capannella. Grazie.